Bella da morire, tornerai, tornerò, lei, 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 un'estate fa, dolce la sera. Trent'anni in una sera, vi aspettiamo numerosi all'appuntamento di domenica 15 aprile 2018 con gli Homo Sapiens, ore 20, cena e buffet, con esibizione dell'orchestra American Band. Circolo Arci Chirubini, in via Onorato Bambini, a Prato, gli Homo Sapiens, trent'anni in una sera. Ragazzi